Allora, vi presento appunto abbastanza sinteticamente, potrei parlarne per ore, di quella che è la mia associazione e l'attività che noi facciamo nella nostra regione. Innanzitutto, Rete degli studenti medi è un sindacato studentesco che esiste a livello nazionale. Sul nostro territorio è presente come altra scuola da dieci anni, proprio quest'anno, in questi mesi, ricorrono appunto i dieci anni di altra scuola. La nostra attività è sì di stampo sindacale, ma estenderà un po' il concetto a quello che è in generale il campo associativo e culturale della nostra regione. Come sindacato studentesco siamo promotori della difesa del diritto allo studio, quindi in quanto tale cerchiamo di promuovere tutte quelle che sono iniziative e sperimentazioni per estendere sia a livello culturale e sociale, per far integrare a livello appunto generale, partendo dalla scuola, il concetto di diritto e di servizi di welfare studentesco. Quindi potrei citarvi adesso l'iniziativa che stiamo portando avanti in questi mesi di una formulazione di legge regionale sul diritto allo studio che si è integrata con appunto un meccanismo di welfare veramente essenziale, efficace per tutti gli studenti della regione che attualmente non è assolutamente contemplato dalle nostre istituzioni. Quindi cerchiamo di promuovere da un certo punto di vista un'attività istituzionale, quindi interfacciarci con quelle che sono le realtà istituzionali e della nostra regione mi viene in mente anche tutta una serie di collaborazioni poi con associazioni che come noi anche tramite consultazioni e questo genere di forme diciamo più convenzionali, porta avanti delle istanze appunto per quanto concerne la realtà studentesca. Poi facciamo una serie di attività che vanno da dentro le scuole al rapporto poi con la cittadinanza attiva della nostra città. Siamo anche noi promotori di Fair TV e quindi anche questo può essere diciamo una dimostrazione per voi dell'impegno che poi diciamo portiamo avanti ogni giorno nella cittadinanza perugina, ternana e umbra. Per quanto riguarda questa attività cerchiamo appunto di renderci promotori anche di una cultura alternativa oltre a rimarci altra scuola, oltre a un'altra scuola c'è anche un'alternativa per quella che è tutta la realtà associativa, culturale della nostra regione. Ad esempio promuoviamo attività che vanno appunto dal commercio a qua, il pacifismo e una serie di collaborazioni ad esempio mi viene in mente l'Onfalos e quindi il discorso dei ricchi LGBT e quindi cercare di essere motori e canali per portare anche questo genere di distanze culturali e sociali all'interno delle scuole. In più appunto l'attività principale, arrivo alla fine a dire quella invece che dovrebbe essere insomma la prima delle nostre attività e che ha tutti gli effetti della prima delle nostre attività che è quella dentro le scuole. Quindi siamo promotori di una rappresentanza studentesca consapevole e quindi cerchiamo di preparare anche i ragazzi ad affrontare quello che è il loro primo percorso diciamo anche in degli organi ufficiali come possono essere i consigli di istituto in maniera consapevole e soprattutto in modo preparato e con delle idee che siano veramente orizzontali di appunto di rappresentanza studentesca e come poi ci confrontavamo prima con Caterina di cercare anche di ripensare dei metodi diciamo di didattica alternativi a quelli convenzionali e quindi parliamo di appunto peer education quindi di una collaborazione anche con la docenza diversa da quella ordinaria con delle lezioni circolari e tutta una serie di meccanismi che piano piano stiamo cercando prima di tutto di far assimilare agli studenti in un secondo momento anche a quello che è poi la struttura scolastica attualmente vigente per appunto riuscire a integrare in maniera sempre più propositiva e di incontro anche tra tutte le parti della realtà scolastica verso un metodo di formazione e di istruzione più partecipativo e più collaborativo quindi diciamo che la nostra attività è ricca quello che vorremmo far capire a tutti gli studenti diciamo nella nostra regione è che partecipando e soprattutto informandosi e creandosi una cultura molto ben definita che è poi possibile anche non solo essere parte dell'alternativa ma saperla poi effettuare nella vita di tutti i giorni e partendo dalle cose semplici che si riesce poi avere anche un'idea di mondo un'idea diversa per ricollegarmi anche quello che dicevi tu nell'introduzione di fuoriuscita anche dalla crisi ma come può essere anche il generale senso adesso di smarrimento di rassegnazione tramite comunque un'attività che parte sin dalla scuola molto più consapevole grazie a tutti